Con il dimostratore tecnologico Sustainer, Mercedes-Benz Vans ha sviluppato test intensivi in vista di una possibile produzione in serie anche sulla combinazione di riscaldamento vicino alla carrozzeria e climatizzazione a zona. La serie di test condotti nella camera climatica della Mercedes-Benz a Sindelfingen hanno dimostrato che questo sistema riduce significativamente l'energia necessaria per riscaldare l'ampia cabina di guida di un sprinter. Questo ha un effetto positivo sull'autonomia del veicolo.